Buongiorno a tutti, buon pomeriggio e benvenuti a questo incontro nel quale parleremo di un tema cruciale per il futuro del nostro Paese, cioè sulle sfide che devono affrontare le nostre imprese per essere presenti sui mercati globali. Il mondo è cambiato drammaticamente, le nostre imprese stanno cambiando, devono cambiare, devono cambiare ancora di più. I sindacati hanno un ruolo importante in questo cambiamento, le banche, e quindi parleremo di questi temi con Raffaele Bonanno, segretario generale della CISL, con Brunello Cucinelli, presidente, amministratore delegato e soprattutto fondatore dell'azienda Brunello Cucinelli. Mauro Moretti, che da maggio è amministratore delegato di Finmeccanica, e Flavio Valeri, presidente del gruppo Deutsche Bank Italia. Tuttora l'Italia è il secondo Paese esportatore europeo dopo la Germania, è un Paese ancora abbastanza industrializzato, abbastanza produttivo, anche se sta perdendo quote produttive ogni anno. L'export, a secondo dei mesi e dei paragoni che facciamo, possiamo dire che cresce e diminuisce, è comunque abbastanza stabile negli ultimi tempi. E sappiamo bene che i fattori trainanti dell'export italiano sono il manufattoriero e le tecnologie, che è rappresentato molto bene da Mauro Moretti, sappiamo che la moda, il lusso, l'alta gamma, rappresentato da Brunello Cucinelli, poi c'è anche l'agroalimentare, di cui abbiamo parlato stamattina, e altre realtà che verranno affrontate in questa settimana. Però non dobbiamo dimenticare un dato importante, che nelle statistiche che cercano di comprendere il livello di competitività del Paese, l'Italia non fa una bella figura. Se voi prendete la statistica del World Competitiveness Center di Lusanna, l'Italia addirittura ha perso dal 44 al 46 posto su 60 Paesi due punti. Se voi prendete altre statistiche, vedete che l'Italia è sempre fra i Paesi europei verso la fine. E se noi andiamo a vedere le cause, le cause sono evidentemente una pressione fiscale enorme, un sistema burocratico frenante, una giustizia civile che impedisce che i contenziosi si risolvano in fretta, anzi li dilunga fino a 6, 7, 8 anni. Poi tanti altri fattori che voi conoscete molto bene. Però nonostante c'è una capacità imprenditoriale notevolissima, perché nonostante tutti questi lacci e laccioli, l'Italia è sempre presente. E visto che noi non vogliamo fermarci sulle cose che non vanno, ma capire perché va ciò che va, vorrei subito cominciare a chiedere prima a Mauro Moretti, poi a Brunello Cucinelli, qual è il fattore che permette in questo caso prima di Finmeccanica di essere presente con delle aziende evidentemente di alta tecnologia sui mercati globali, cosa deve cambiare perché questo può rimanere così e quali sono, caso mai, anche delle considerazioni che partendo da queste esperienze si possono fare per l'Italia in quanto tale, per il settore tecnologico manufatturiero italiano. Quindi, a te la parola. Grazie. Tema bello e complicato, però, da affrontare. Con le considerazioni già fatte da Scholz, che sono quelle del fatto che, cito testualmente, siamo ancora abbastanza del novelo dei Paesi buoni, con il rischio di non esserci, perdiamo quote e ne abbiamo perse progressivamente. Io non voglio entrare nei problemi di cosa deve fare la politica per. Vorrei, anche perché i giornali, mi pare, abbiano enfatizzato questo aspetto nuovo del meeting, dire cosa deve fare l'impresa per. Perché è troppo facile parlare di quello che devono fare gli altri e non parlare di quello che dobbiamo fare noi. Intanto vorrei partire da questa osservazione. Si parla di mercato globale. Non è che vi sia un unico grande mercato globale indistinto per prodotti e servizi. Vi sono tanti strati di prodotti e servizi che fanno tanti diversi mercati globali. E ognuno di questi ha delle caratteristiche proprie. Permettete, in maniera schematica, che ve lo dipinga così. Ci sono i pezzi di mercato globale ad alta intensità di capitale e di innovazione. Spesso l'innovazione coincide con l'alta tecnologia, non sempre. E quelli che invece non hanno queste caratteristiche. C'è un mercato globale di prodotti a scarsa intensità di capitale, a scarsa qualità di tecnologia. Molto spesso a questo corrisponde, è peraltro un lavoro semplice, un lavoro povero. A differenza del primo, dove l'elemento qualificante forse il più importante è pieno di lavoro, di alta intelligenza, alta innovazione, alta complessità. E quindi il nostro problema, lo dico come fin meccanica in generale, le imprese che si occupano di alta tecnologia, aerospazio, difesa, security e così via, è quello di riuscire a decidere prima di tutto cosa fare. Sapendo che nel primo mercato, quello ad alta intensità di innovazione e capitale, i competitors ancora non sono moltissimi. Perché bisogna avere grandi risorse per poterlo fare, soprattutto, ripeto, grandi risorse umane. Spesso, e questo sembrerà strano, la domanda è superiore all'offerta. Le dinamiche di questo mercato sono esattamente all'opposto del mercato in cui si fanno prodotti poveri, che possono essere aggrediti in tempi rapidi e con poche risorse, risorse povere, da tanti, dove la competizione è molto, molto più, come dire, stretta e non dà nessuno tipo di spazio. Una grande impresa, probabilmente anche un grande paese, dovrebbe decidere, nella logica del make or buy, cosa fare. Cosa è l'oggetto, il core business sul quale investire e ciò che non è più core business sul quale disinvestire e approfittare del fatto che il mercato globale non è solamente una iattura, è anche un'opportunità, perché può offrire a più bassi costi tanti prodotti e tanti servizi di relativa povera qualità o prestazione. Ecco, una grande impresa deve sapere fare questa scelta, così ripeto come un grande Stato. Qui inizia la vera idea di politica industriale di un'impresa grande che voglia stare sul mercato ai primi livelli nell'alta tecnologia. Io, dico alcune cose per fare, fissare le idee, mi sono trovato in Finmeccanica ad avere tanti settori che fanno delle carpenterie, anche pregiate, ma che non sono ingegnerizzate da Finmeccanica, di cui noi facciamo parte della catena della fornitura verso Boeing, verso Airbus. È il nostro mestiere? Io credo di no. Noi dobbiamo fare l'ingegneria, la progettazione, il design, l'innovazione e dobbiamo trovare tanti manifatturieri che sappiano fare questa cosa. D'altra parte abbiamo 15.000 ingegneri in Italia e siamo presenti con stabilimenti e centri di ricerca in Italia, naturalmente la base maggiore con oltre 40.000 persone, in Gran Bretagna la seconda base con quasi 15.000 persone, Stati Uniti d'America, Polonia. Questo punto è la questione fondamentale, la riselezione dei settori e dei prodotti sui quali dovere investire, accompagnata dall'altro elemento importante, ridurre drasticamente le spese operative, il mercato offre catene di forniture eccellenti. Essere invece in grado di poter guidare sviluppo di sistemi e prodotti e servizi, molto spesso sono integrati e addirittura una delle svolte che stiamo facendo di Finmeccanica che io vorrei fare è passare dalla produzione di prodotti all'offerta sul mercato di servizi complessi, turnkey, chiave in mano, perché questo è il mercato che si sviluppa, sta chiedendo, e avere delle catene di fornitori qualificati nei quali progressivamente le questioni dal livello medio a quello più povero dei prodotti vengono ad essere identificati, ma non da noi gestiti direttamente, noi dobbiamo essere quelli che fanno la progettazione, il design, la ricerca e lo sviluppo. E su questa base dobbiamo essere di impulso per il Paese affinché in tutta la distribuzione delle risorse messe a disposizione delle imprese su questo livello ci si porti, a partire da quella del lavoro. Non possiamo semplicemente preoccuparsi di fare un'education più o meno valida. Dobbiamo essere molto più chiari nel potere qualificare il nostro personale. Abbiamo anche delle esperienze importanti. Noi abbiamo fatto importanti accordi con università, i Politecnici, sia del nord che del sud, i più importanti d'Italia, dove abbiamo i nostri bacini di assunzione attraverso percorsi che vengono ad essere formati su stage, training e così via, tali da poter qualificare e specializzare le persone di cui abbiamo bisogno. La stessa cosa la stiamo facendo con grande successo e qui credo che occorra magari più risorse ed è un punto importante per la svolta nell'education. L'esperienza che abbiamo fatto sugli istituti tecnici superiori, dove invece di offrire ai giovani tanti corsi universitari con improbabile possibilità di sfogo, si danno delle possibilità di poter avere immediatamente delle qualificazioni con degli stage, con dei training direttamente collegati ad una qualificazione che permettono alla fine di poter avere dei progettisti, degli sperimentatori, degli ottimi manager capaci di poter guidare delle squadre. Ecco, il punto fondamentale a questo punto è proprio questo, come utilizzare le risorse per poter stare tra quelli che devono rimanere tra i paesi forti, sviluppati. E il senso dello sviluppo è sempre relativo, naturalmente. Come mantenere questa cosa? Dicevo, ridurre fortemente i costi operativi, aumentare fortemente i costi per ricerca, sviluppo e investimento. Il primo si esaurisce in un ciclo, il secondo costruisce cicli di creazione di valore di ricchezza per il futuro, per le generazioni future. Noi abbiamo questo compito e in questo caso il problema più importante è quello di fare sì che questo drenaggio di risorse dei costi operativi, quelli che vanno a conto economico, a quello che vanno a stato patrimoniale, vengano fatte con una assoluta efficacia. Non basta, come noi facciamo oggi, già spendere 2 miliardi all'anno in ricerca e sviluppo, 12% del nostro fatturato su scala mondiale. Ma il problema è come riselezionare all'interno di questi progetti di investimento quelli che abbiano la possibilità di stare tra i primi al mondo, cioè in quello strato ai quali facevo riferimento all'inizio del mio intervento, che permetta di avere un numero di competitori relativamente modesto ed una domanda di mercato sempre importante e molto spesso, ripeto, superiore all'offerta che siamo in grado di dare. Tutti i competitors messi assieme e soprattutto capace, e questa per noi è una prova che facciamo quotidianamente, di poter vincere tenders internazionali. Questa è la sanzione della nostra qualità. Se in una gara internazionale di prodotti ad alta tecnologia o di servizi integrati comprendenti prodotti ad alta tecnologia noi vinciamo, quella è la tranquilla certificazione che siamo in grado di poter competere sul mercato globale. Questo è quello che io vorrei fare per la nuova Fimeccanica, che naturalmente non ha le caratteristiche che ho detto fino adesso, ha luci e ombre, fortunatamente tantissimi risorse importanti, tantissimi settori ad altissima qualificazione, alcuni settori nei quali siamo primi al mondo. Se pensate al settore elicotteristico, noi siamo i primi al mondo. Ebbene, dove siamo i primi al mondo? Dobbiamo investire e creare le condizioni al contorno all'impresa affinché tutto converga a sostenere. Se Merkel fa la politica delle automobili, perché è ancora il settore trainante nella Germania attraverso le automobili di lusso e si inventano cicli di investimento del Paese su quello, noi dobbiamo trovare i settori sui quali siamo eccellenti e sui quali costruire filiere nuove di eccellenza per poter trascinare lavoro qualificato che sia competitivo esso stesso e riesca a sostituire progressivamente il lavoro non competitivo, quello di bassa qualificazione, quello di povera qualificazione, che trova uguali in qualsiasi altro Paese dell'Europa occidentale o addirittura nei Paesi dell'Europa. Questa è la grande trasformazione. Io devo dire che su questo poi abbiamo avuto anche dei contributi in questi giorni, chiudo qui perché credo che poi magari potremo dire qualcosa, soprattutto con Bonanni, che ha dato un'apertura importante sul problema della Flexi Security nella logica Jobs Act di cui si parla tanto. È indispensabile perché se non riusciamo a far sì che tutte le risorse vengano convogliate nell'alta tecnologia, nell'alta innovazione, nell'alta competitività e riesca quindi a trascinare l'insieme del Paese su questo senso, altrimenti saremo divorati da quelli che hanno un lavoro povero che però costa la metà del nostro o a volte anche un decimo del nostro. Non ci potrà mai essere competizione. Io credo che qui sia la chiave sul quale noi dobbiamo fare, dobbiamo lavorare. Grazie Moretti. Io penso che in quello che ha detto ci sono tante implicazioni che riguardano anche tutto il sistema della formazione tecnico-professionale nel nostro Paese, che non è qua la sede di affrontare, lo faremo in altre occasioni, alle politiche attive, proprio per poter convergere tante risorse positive verso le mete che sono state indicate. Brunello Cucinelli è un'azienda semplicemente di successo. Qualunque dato si guarda è una crescita continua, 15% in più nel 13 rispetto al 12, presente sui mercati globali internazionali, una crescita esorbitante in Cina, un sistema relativamente, adesso io paragone un successo con altri successi, quindi vediamo. Comunque ci interessa sapere come un'azienda che è situato, collocato nel mondo della moda, dell'alta moda, del lusso, ha potuto crescere continuamente creando anche occupazione, un'occupazione anche molto elevata, ben pagata, ben retribuita. Qual è il segreto di un'azienda che diverse volte ha vinto il premio The Best of the Best di una famosa rivista americana? Qual è il fatto di questa grande crescita? Intanto buonasera, grazie per l'invito, sono sufficientemente emozionato perché questo è un grande meeting. Grazie, grazie, grazie. Io però volevo provare a far con voi delle riflessioni. Allora io partirei da questo, io ho avuto uno dei grandi maestri dell'umanità per me, Marco Aurelio, che a un certo punto dice due cose molto speciali, dice a seconda l'umanità, vivi secondo natura, progetta come se vivessi per l'eternità, ma ricordati potrebbe essere anche l'ultimo giorno della vita. Guida il suo impero da filosofo e conduce però l'impero da imperatore e vive in un momento abbastanza difficile. Perché dico questo? Perché io sono convintissimo che siamo in una rinascita umana, politica, spirituale, morale, civile, economica e su questo colui che è stato il propulsore primo, non c'è dubbio, che è Papa Francesco. Questo genio dei rapporti umani, che sembra che con noi da una vita è invece poco più di un anno, il quale sordisce ricordandoci, siate custodi del creato. Poi a un certo punto dice, chi sono io per giudicare? Poi dice, non volgete le spalle alla povertà. Non aver paura, parliamo anche di impresa. Non volgete le spalle alla povertà. E addirittura poi dice nessuna ingerenza nella spiritualità di ogni essere umano. Pensate che meraviglia. Perché io dico che siamo in un momento di grande rinascita? Perché abbiamo riequilibrato nel mondo il mondo del lavoro. Abbiamo ormai definito che per la nostra splendida Italia chiaramente non vi è più possibilità di produrre prodotti medi, ma dobbiamo produrre manufatti di alta qualità. Perché? Perché questi esseri umani, cinesi, indiani, sudamericani, credetemi, sono affascinati da noi, sono affascinati dalle nostre bellezze, dalla nostra unicità, dal nostro modo di condurre la vita. Quindi affascinati. Però, se è vero che abbiamo bisogno di produrre manufatti speciali per esportare in tutto il mondo, e questo ve lo posso garantire, è così, siamo comunque tra i primi 4-5 nazioni al mondo, no? Chi saranno quegli esseri umani che produrranno questi manufatti speciali? Perché dico questo? Perché se noi non riscopriamo la dignità economica e morale nel lavoro, noi non abbiamo possibilità. Perché dico questo? Abbiamo bisogno di manufatti speciali, ma come si può lavorare per mille euro al mese? Come si può lavorare a volte in luoghi? Non troppo curati. Ma dov'è che l'essere umano, quando è che l'essere umano è creativo? L'essere umano è creativo quando vi estima. Quando vi estima, la stima genera responsabilità. La responsabilità genera creatività, no? E ogni essere umano ha una quantità di genio. E noi dobbiamo essere coloro che governano questo genio nelle nostre imprese. Ecco perché dico io che dobbiamo riscoprire il valore dei luoghi. Ma vedete, c'è una bellissima espressione di San Benedetto, è chiaro, sono perugino, sono deformato dai nostri santi, però lui a un certo punto dice due cose magnifiche. Guardate, raccomanda la abate di essere rigoroso e dolce, esigente maestro amabile padre. Meraviglioso secondo me. Poi sul lavoro ricorda, cura ogni giorno la mente con lo studio, l'anima con la preghiera e il lavoro. Ma perché noi dobbiamo lavorare dieci, dodici ore al giorno? Perché io non voglio farlo, io non voglio essere colui che cambia la vita delle persone che lavorano nella nostra impresa. Perché? Perché quando è ora devono andare a casa, devono curare la propria famiglia, il proprio spirito, la propria mente e devono, se c'è la possibilità di lavorare, in luoghi leggermente migliori. Quindi ritrovare la dignità morale ed economica. Perché morale, guardate, gli ultimi venti o trent'anni, io credo, noi abbiamo tolto. Degnità morale a certi tipi di lavori. Allora, questo è il nostro futuro. Però io credo che per i giovani sia un momento affascinante, credetemi. Vedete, mio babbo e miei fratelli e io stesso, siamo stati umiliati nel lavoro, facevamo i contadini, sono stato umiliato a scuola, quando mi dicevano che ero contadino, ero vestito sempre la stessa maniera, non parlavo l'italiano perché parlavamo il dialetto. Quindi avevamo delle difficoltà. Ma vedete che qual è il mondo oggi? Che cosa è cambiato? Tutto. Per essere veri dobbiamo essere credibili sempre, sempre, in ogni momento. C'è una sorta di moralizzazione dell'umanità, non perché credo che l'essere umano all'improvviso abbia deciso di essere migliore che cento anni fa, ma perché viviamo in un mondo dove si sa tutto. Come posso, come potete voi, dico giovani, perché io sono ormai nella quarta età della vita, l'ultima, come potete aver paura? I nostri nonni, i genitori, io stesso, abbiamo fatto non la guerra ma la fame, loro la guerra, la dittatura. Come possiamo non immaginare che vi è un declino della violenza? Ma guardate che nel mondo oggi c'è molta meno che violenza 20 e 30 anni fa. Pensate che futuro ci aspetta. E poi, perché non vogliamo accettare che forse siamo tra i primi ad aver concepito che vi è un declino del consumismo? C'è una bella espressione di Epicuro quando dice l'uomo ha bisogno di due cose speciali. Uno, di curare l'anima e la sua spiritualità, di raggiungere la serenità dell'anima. L'altra sono quello di curare il corpo. Ma noi credo che siamo tornati ad utilizzare le cose che la terra ci dà e non a quella parte di surplus che io vorrei chiamare consumismo. Ma voi non trovate bello che i nostri giovani 35 anni tornano a riapprezzare certe cose della vita? Come non possiamo capire che siamo tornati ad investire nei tre grandi ideali dell'uomo, no? La bella politica, la famiglia e la spiritualità o religione. E alla fine dico, ma tutto questo non significa territorio? Che cos'è il valore del territorio? Quando Senofonte dice che la terra è madre di tutte le cose. Ma il territorio non è arte, politica, economia, amore, lavoro, giustizia. Guardate, vorrei concludere questa prima parte dicendo che ci sono due grandi momenti dove si richiama la bellezza. I greci dicono è nostro dovere lasciarti una città più bella di come l'abbiamo trovata. E nella Costituzio senese del 1309 si raccomanda a coloro che governano di curare massimamente la bellezza, per cagion di dilette d'allegrezza ai forestieri, per prosperità e fierezza dei cittadini e delle città. Allora, io concludo sta parte dicendo che immagino che il futuro per la nostra splendida Italia e per l'umanità sarà migliore. Non ho dubbio che siamo in un secolo d'oro. Ha una grande condizione. Non dobbiamo volgere le spalle alla povertà e credere nei grandi ideali. Grazie. Si può anche parlare dell'uomo parlando di impresa o parlare di impresa parlando dell'uomo. Perché l'impresa è fatta di lavoro, il lavoro è fatto della persona. Raffaele Bonanni ha scritto al Corriere della Sera una lettera in cui dice Ci prenderemo la responsabilità sulle vicende dell'economia e delle relazioni industriali, come abbiamo fatto sempre nei momenti cruciali. Ma la discussione deve avvenire alla luce del sole per favorire la verità. Occorre un percorso riformatore con la collaborazione delle realtà di buona volontà, come avviene nel resto in tutti i paesi europei. Qual è questo percorso riformatore che dobbiamo intraprendere perché l'Italia possa essere un paese all'altezza della sua vocazione? Noi siamo nei guai e lo riconoscono tutti. Come uscire dai guai non tutti la pensiamo nello stesso modo. C'è chi ritiene che uscire dai guai basta darsi una formula magica da teatro e purtroppo pochissimi indicano la strada, quella difficile, come si dice classicamente, di lacrime e sangue pur di ottenere un risultato che dobbiamo ottenere. Non abbiamo molto tempo, non abbiamo molto tempo, abbiamo pochissimo tempo perché le nostre riserve, oltre che economiche e anche morali, sono all'omicino. Quindi è importante che si decidano delle cose importanti oggi. La prima cosa importante secondo me è come le realtà collettive a vario titolo partecipino davvero a questa risalita. Io non ho mai creduto mai che una persona valente che sia, coraggiosa che sia, lungimirante che sia, riesca a toglierci dei guai. La storia è maestra ogni volta che è spuntato. Uno così ha creato dei problemi in Italia e in altri paesi. Perché i processi veri di cambiamento o sono collettivi o non sono. Quindi per ritrovare l'energia morale e l'energia anche economica bisogna fare i conti con una realtà da cui non poter prescindere. Come ci mettiamo d'accordo per un percorso di guerra? Perché l'economia è economia di guerra, quella che abbiamo e che avremo nei prossimi tempi. Spendiamo troppo, spendiamo davvero troppo per le nostre amministrazioni e istituzioni con poco risultati e finora non c'è stato un governante nazionale e locale che ha voluto davvero prendere per le corna il problema. Fanno finta, continuano a fare finta e finché quella falla non viene turata noi non saremo in sicurezza. La diffidenza che c'è in giro per il mondo verso gli italiani riguarda questo. L'altra questione è quella che è emersa qui e cioè finché non arriveremo a livelli di produzione e di produttività all'altezza dei nostri consumi e delle nostre aspettative noi non ce faremo ma non ce la faremo e a prova di fesso non ce la possiamo fare. Quindi questi sono due problemi che o si affrontano con grande forza o altrimenti noi staremo continuamente a recriminare, a farlo scarico a barile e consegneremo il Paese a realtà sempre più irresponsabili, cioè realtà di populismo che potranno dire anche cose vere ma non risolveranno mai il problema. L'altra questione insieme alle due, perché è connaturata questa questione con le due questioni che ponevo, è la qualità. Lo si diceva adesso? Il popolo italiano non può vivere non avendo e non garantendo qualità a ogni cosa che riguarda la vita collettiva, sia che sia la gestione della cosa pubblica, sia che sia la produzione, sia che sia ogni cosa. La qualità è l'unica possibilità per azzerare tutto lo sfalso che abbiamo con altre realtà che riescono a produrre con meno soldi di noi, perché magari hanno meno democrazia, hanno meno garanzie sociali, hanno meno di tutto. Quindi su queste tre questioni, in questi giorni Draghi, io sono molto d'accordo con lui, ho dichiarato ad alcuni giornalisti un banchiere, mi pare più politico dei politici o comunque mi pare un politico vero, perché ha sostenuto di aggredire questi temi, non altri temi. E io spero che si apra una stagione nuova al Paese, però insisto, la stagione nuova si apre se lo decidiamo insieme e se non usciamo da questa storia, che qualcuno debba prendersi l'incombenza che riguarda ciascuno di noi. Questo è un punto molto importante, come premessa a ogni questione. Dopodiché dice Bernard, sì, ma tu sindacarista, il tuo sindacale, cosa fa? Ora, non voglio riprendere questo fatto dalla lettera che diceva, perché lì obiettivamente c'è stata un po' di irritazione da parte mia, me lo concederete, noi non è che abbiamo difetti, però quando c'è stato da dare una mano al Paese, lo abbiamo fatto senza condizioni, sempre. Perché riteriamo che la moralità di una organizzazione confederale a tutto tondo è quella di fare gli interessi di lavoratori, di pensionati, ma di fare gli interessi nel contempo generali, anche perché, parliamoci caro, se non va bene il convento i monaci saranno malissimo. E quindi l'abbiamo fatto sempre, sempre. Sulla vicenda specifica del nostro mestiere, come stare nella globalizzazione, che obiettivamente è in vita da diverso tempo. E abbiamo accumulato davvero molte distanze con gli altri, proprio perché non ne abbiamo tenuto conto, come italiani. Noi abbiamo cercato. Sono anni, ma com'è possibile il mio carissimo amico di Vigo dire, facendo tutto l'armo un fascio, ma come? Ci hanno sputato nei volti, ci hanno bruciato le sedi, ci hanno detto che siamo dei venduti. Quando dicevamo ci vuole molta contrattazione aziendale per fare più qualità e più quantità di prodotto, in modo tale a ottenere più qualità e quantità di salario, che significa innalzare fortemente la qualità. Perché senza l'innalzamento della qualità, come è stato detto, noi non avremo da ripartire alcuna ricchezza. E vi avverto, guardate bene, tutti coloro che non si occupano di questo, si occupano esclusivamente di stuzzicare, spingere le persone all'invidia sociale. Cioè mettere uno contro un altro. C'è sempre uno che prende un euro o meno dell'altro. E ogni occasione è buona per mettere quello che ha un euro in meno contro quello che ha un euro in più. Che è il fenomeno tipico delle classi dirigenti che non sanno che l'unica strada è quella di innalzare la produttività e di abbassare i costi. Quindi noi ci siamo stati sempre su quel versante. Come si fa da parte di alcuni commentatori, fanno i furbi, parliamoci chiaro, a fare di tutte le erbe un fascio? Noi abbiamo molti difetti, parlo della mia organizzazione, ma un difetto non l'abbiamo mai avuto. La mancanza di coraggio e la mancanza di semplicità nell'affrontare le questioni contrattuali. La vicenda della contrattazione aziendale è cruciale. Perché? Perché è l'unico posto dove possiamo stabilire per quella produzione come si innalza qualità e quantità. È l'unico posto dove possiamo ragguardare facilmente e velocemente quanto tocca a me perché io ho prodotto di più di prima. ho collaborato in modo tale a fare questo. E non c'è possibilità. E sviluppa la responsabilità di cui si parlava poc'anzi. E sviluppa, io spero che arriverà il momento per questo, anche la possibilità di discutere che il potere responsabile del lavoratore corrisponde alla crescita economica e democratica dello stesso Paese. Questo è un problema molto serio. Perché quando Cucinelli parlava moltissimo di spiritualità, di immoralità e così via, e parlava di come appunto coinvolgere la persona, la persona è coinvolta se ha libertà, che non significa la libertà che porta all'anarchia, ha libertà nell'esprimere tutti i talenti che ha. In un ordine più generale, mirato appunto all'interesse collettivo, all'interesse di comunità, ma questo è un tema molto molto importante. Quindi la contrattazione aziendale. Quanti stanno lavorando su questo? Chi ha lavorato su questo? Io sono grato a Draghi perché in questi giorni ha rimesso al centro dell'attenzione questo aspetto. Abbiamo lavorato come muli per far passare il salario di produttività e la tassazione di produttività ce l'hanno cancellato. Hanno cancellato perfino quelle possibilità di premiare il lavoro produttivo. E io spero che Renzi abbia lungimiranza e abbia occhi adatti a vedere quello che serve. Quindi io penso che la contrattazione aziendale che guarda ai turni, che guarda agli orari, che guarda alla professionalità e che guarda a ogni aspetto dell'organizzazione del lavoro per migliorare la qualità e la quantità. L'altra questione riguarda le tasse. La qualità noi la otterremo se ci sono i luoghi adatti per esprimerla. Finché le aziende se ne vanno, delocalizzano, perché qui è diventato il proibitivo starci, noi non faremo nulla. Io spero, dicono che il 29 c'erà un consiglio strepitoso, rivoluzionario, sul piano appunto delle riforme. La mia organizzazione non aspetta altro. Noi aspettiamo, come gli ebrei aspettavano appunto il Messia, aspettiamo un governante riformatore da diverso tempo. Spero che venga fuori, noi lo sosterremo con tutte le nostre forze, dovrà affrontare il problema delle tasse non con i bonus semestrali. Dovrà tagliare le tasse al lavoro, come ci chiede l'Unione Europea, per le imprese che investono o che reinvestono gli utili e per il lavoro nel senso di premiare la produttività, con tasse basse. Ci aspettiamo questo. Oltre che altri lavori priotecnici del tipo che abbiamo assistito, che pur io ho apprezzato. Ma quello bisogna fare, abbassare le tasse. In modo forte, per abbassare le tasse bisogna abbassare i costi, lo ripeto, delle amministrazioni e delle istituzioni e delle municipalizzate. Siamo ancora lì a aspettare. Quando si parla di province, e lo voglio dire con molta chiarezza, so che questo è impopolare, noi non parliamo di province come istituzioni, parliamo come dimensione territoriale di ogni ente amministrativo. Parlo dell'Inps, parlo dell'INAIL, parlo delle prefetture, parlo delle questure, parlo di ogni realtà. Questo significa. Alcuni fanno finta di altro, perché vogliono sfuggire dal tema. Nel momento, nella realtà del digitale, della telematica, pensate gli ordini amministrativi come possono essere dimensionati. Ma da chi deve venire la proposta? Da noi o dai governanti? Finché i sudalizi sono forti, tra i poteri locali e centrali forti, a prescindere da questi risultati, non avremo alcun cambiamento, che è quello che mi sta parendo di vedere anche in questi ultimi tempi, compreso le vicende delle municipalizzate. L'altra questione, e noi su questo lavoreremo, vi voglio dire una cosa, che è stato frutto anche di polemiche in questi giorni. Dice, gli impiegati statali, pubblici, non avranno il contratto. Sono otto anni che non hanno il contratto. Otto anni. Non c'è cittadino italiano che abbia una situazione bloccata da otto anni. Nel pubblico impiego circa da vent'anni c'è il blocco delle assunzioni, il blocco del turnover. Allora, prima di qualsiasi discussione dico al governo, vogliamo sapere tutti questi risparmi che fine hanno fatto. Se è vero che nell'ultimo quinquennio c'è stata una lievitazione della spesa pubblica circa del 10%, vogliamo sapere in modo trasparente che fine hanno fatto questi soldi. I soldi vengono bruciati perché c'è un sistema oramai nella pubblica amministrazione fatta di concessioni di convenzioni, di esternalizzazioni e di tante altre situazioni mangiasoldi come le municipalizzate che tritano tutto. Questa discussione deve essere fatta chiaramente. Altro che il dipendente fa nullone che è stato il paravento per coprire tutte le malefatte nella pubblica amministrazione con i giornali grandi che hanno fatto da sponda perché dentro hanno proprietari con interessi fortissimi questi servizi. È ora di dirla chiara la vicenda italiana come. Quindi noi si impegneremo su questo. Per me l'autunno caldo significa questo, non fare sciopere, non ne farò finché c'è crisi. Per me è l'informazione dettagliata giorno per giorno alla gente e se devo protestare protesto di sabato. E continueremo in questo modo. Dico alla mia collega di allinearsi su questo perché è la cosa più saggia che possiamo fare e anche la cosa più efficace che possiamo fare. Sul mercato del lavoro. E finisco. Basta con il messaggio. Riformiamo il mercato del lavoro e abbiamo posti di lavoro. Non ne avremo. I posti di lavoro li avremo quando gli investitori italiani e esteri investiranno in Italia. Per le ragioni che gli amici dicevano poc'anzi. Ma come non si vergognano? Sono cinque governi che scrivono le norme del lavoro, arriva l'altro governo le cancella, arriva l'altro governo le riscrive, arriva il successivo governo le riscrive altre e così via, creando un imbarazzo. Non solo tra i lavoratori ma anche tra le imprese, che oramai per loro è una lotteria. Poletti ha fatto la cosa più semplice e anche più saggia che poteva fare. Ha lavorato su il contratto a termine, che è un contratto che gli imprenditori conoscono e per i lavoratori va bene. Però tutte queste discussioni puzzano discantonamento verso le questioni più cruciali che bisogna affrontare, quelle di prima. Siccome non mi voglio sottrarre, in qualche modo Mauro lo ha, io non ho problemi, l'articolo 18 sì, no e così via. Io dico questo, dico, è chiaro che non si capisce per quale motivo debbano sopprimere l'articolo 18, perché i giovani non ne hanno. E allora? Allora non devono avere anche quelli che magari, e non è vero neanche, sono meno giovani. Dici perché dobbiamo dare più lavoro a tutti? Mi pare più serio quello che dice Draghi. Cerchiamo di togliere dualità nel mercato del lavoro, cioè diversi trattamenti. E io ho una soluzione molto semplice, che rassegno a Renzi, e voglio vedere che farà adesso. Voglio vedere. Quando dice, e tecnicamente vi dico la mia opinione, contratto a tutele crescenti, la mia organizzazione ha detto già che va bene, va bene. Però, e quel contratto esclude per i primi tempi anche l'articolo 18. Io dico va bene. Ma va bene, e voglio vedere che farà, siccome gli dici in nome dei giovani, benissimo, va bene se si mangia e toglie di mezzo le false partite IVA, i Coco Pro, gli associati in partecipazione e i Coco Co che ancora sono nella pubblica amministrazione. perché se non lo dovesse fare c'è qualcosa che non va. È una tela di Penelope ed è sempre un meccanismo, io da sindacalista vi dico, per me è conveniente rinunciare a qualcosa per ottenere l'immissione nel mercato del lavoro di qualche milione di persone che non hanno nulla. Perché quest'oro non hanno nulla. Non si sa quanto salario prendono, non si sa che contributi prendono, non si sa che diritti sindacali hanno, non sanno niente. Quello è uno scambio importante e voglio vedere se Renzi lo fa. Per quel che mi riguarda non mi sottrarrò io. Anche di fronte appunto a impopolarità, perché vale il principio della moralità. Includo dentro il mercato del lavoro persone che oggi non ci sono, ma quello di dare un calcio a uno, perché l'altro già l'ha avuto, non mi convince. Una società di questo tipo va a finire a ramengo. E se dobbiamo puntare alla qualità, il problema del potere dei lavoratori e del rispetto delle condizioni minime salariali e normative sono fondamentali per la qualità. Sia Moretti che Cucinelli lo sanno perfettamente. Nelle loro produzioni che chiedono sempre più avanzati si parla di persone ad altissima qualificazione. Ma a costoro non ti può presentare con i fichi secchi. Ti presenti appunto con un salario, un signor salario, con un'organizzazione di normative certamente all'altezza della situazione. Questo è il punto. Quindi questo è il punto di vista che ho io e dico al commentatore politico appunto del Corriere di avere gli occhi più sgranati sulla situazione, perché non va bene di tutta un erbo, un fascio. Non va bene. Perché questo non spinge le persone di maggiore serietà e responsabilità a continuare una storia difficile da gestire. Io posso capire Renzi che fa il furbo in questo caso. In questo non sta cambiando rispetto ai suoi predessori che per altri motivi non facevano scelte per non andare in rotta di collisione con la Cigelle. Per altri motivi ancora Renzi sta facendo la stessa storia. Siccome ce l'ha morta con la Cigelle per una contesa interna forte che ha, non discute con la Cigelle, non discute con nessuno, così non scomoda nessuno anche al proprio interno. E non va bene questo. In un momento così cruciale si deve aprire una discussione, io dicevo anche ai giornalisti, trasparente, vera, per chiamare ciascuno alla responsabilità. Grazie. Grazie Raffaele Bonanni. Nel 1963 la Deutsche Bank è stata co-manager dalle emissioni di 15 milioni di dollari di autostrade, ai tempi si chiamavano concessioni e costruzioni. E da lì la Deutsche Bank in Italia è stata considerata fondatore del mercato del Euro-Dollar Bond. Questo lo dico, una reminiscenza storica per ricordare che investimenti esteri in Italia ci sono sempre stati. Flavio Valeri ha ricevuto nel 2013 il premio Guido Carli Milano Finanza e la motivazione alla seguente per aver guidato, organizzato e sottoscritto le più grandi operazioni sul capitale di rischio e di debito di aziende italiane confermando la vocazione italiana della più grande banca tedesca. Domanda. Perché una banca grande multinazionale investe in Italia, fa parte del sistema, crea un gruppo? Che cosa rende interessante investire in aziende italiane? dove sta la loro capacità competitiva che vogliamo favorire, che vogliamo far crescere ulteriormente e quali sono forse dei punti da sollecitare ulteriormente? Grazie. Grazie soprattutto per l'invito, Bernard, sia a livello personale sia a livello così di categoria. Penso che non sia facile invitare un banchiere in questo momento, insomma non è che siamo molto popolari al momento. Per cui cercherò un pochettino di metterla più sul simpatico, se posso. Devo dire che è difficile dopo tre interventi di così alto livello, uno sulla politica industriale del paese, uno sulla filosofia dell'uomo, uno sul lavoro. Quindi io vi darò un pochettino dei dati che porteranno la discussione a un livello un po' più basso e mi scuso dell'abbassamento di tenore intellettuale a cui vi porterò. Deutsche Bank in Italia, sì, è una presenza di lungo corso, abbiamo circa 5.500 persone sul territorio, storicamente una grande attività di banca d'affari, quindi un supporto alle grandi aziende, al tesoro, alle grandi multinazionali. Negli ultimi cinque anni abbiamo però cominciato a spingere molto il canale della banca tradizionale, quindi la banca, diciamo, essenzialmente di territorio, su due filoni, il filone più del retail, quindi gli sportelli, i promotori finanziari di finanze a futuro, un grosso accordo di distribuzione di prodotti finanziari con le poste, di cui siamo molto fieri, e poi soprattutto una focalizzazione nel supportare le piccole e medie imprese italiane, con alcune caratteristiche di cui adesso vi darò conto, ma che penso possono essere utili per la discussione. Nella nostra definizione, piccole e medie aziende sono aziende che hanno da 5 a 250 milioni di fatturato, è un gruppo molto vasto, su cui quindi vale la pena focalizzare l'attenzione in alcuni, diciamo, sottocluster. Ci sono in questo mondo circa 5 mila aziende italiane che sono fortissime, sono aziende che hanno 80-90% del fatturato fuori, sono aziende che competono già da ora benissimo nel mercato internazionale, sono aziende che non hanno bisogno delle banche, che non hanno bisogno del credito, hanno semmai bisogno di altre cose dalle banche, hanno bisogno di servizi di tesoreria centralizzata, hanno bisogno magari di garanzie per grandi contratti, oppure magari hanno bisogno solamente di qualche presentazione agli istituti bancari corrispondenti nel caso che decidessero di produrre in un posto magari al loro sconosciuto, come può essere l'India o lo Sri Lanka. Però queste aziende qui sono aziende, direi, che stanno già a posto. Non sono tante, sono 5 mila, e direi che sono quelle che cominciano a prepararsi per la fase 2 della loro crescita. Un passo che, per esempio, la cucina lì già ha fatto un po' di anni fa, ma forse, se torniamo in dieci, dieci anni fa, anche tu stavi in questa categoria. C'è poi tutto un mondo, che saranno circa 15 mila aziende, che sono lì lì per fare il grande salto. Sono aziende che stanno in settori molto specifici, per esempio la rubinetteria nel Novarese, le valvole nel Bresciano, la meccanica di precisione, i pistoni di precisione, per esempio a Gallarate, tutto il mondo del packaging nel distretto di Bologna. Sono tutte aziende che sono quasi pronte per fare il salto e che vanno supportate. normalmente cominciano a indebitarsi per costruire la loro base all'estero. Forse facendo un paragone con l'industria della moda, è un po' come dire, ci sono queste aziende che hanno un bel brand nazionale, hanno 70-80 milioni di fatturato, quindi sono abbastanza conosciute, cominciano a investire in pubblicità, il brand è conosciuto, però poi devono andare all'estero, e per andare all'estero devono magari decidere se cominciare a prendersi un negozio a New York o in Cina, se cominciare ad avere una propria rete di distribuzioni, i costi esplodono, i margini si abbassano, però sono tutti investimenti per il futuro. È quel momento di discontinuità, di discontinuità, dove invece la banca cerca di aiutarli, perché lì hanno bisogno di tanto credito, perché per passare da un 70-80 milioni di fatturato o ai 250-300-400 milioni di fatturato, bisogna andare in nuovi mercati, bisogna aprirsi, bisogna cambiare l'aspetto menageriale e soprattutto bisogna avere delle risorse fresche. Lì è dove invece la banca deve aiutarli e deve fidarsi dell'imprenditore, cosa non semplice perché deve essere un rapporto bilaterale in cui magari anche l'imprenditore o finanzia lui stesso l'azienda o la porta in borsa o apre il capitale, ma diciamo che si rafforza anche lui o lei, molto sostanzialmente. C'è poi invece tutta la terza parte, che sono aziende completamente domestiche, che soffrono, soffrono moltissimo, su cui effettivamente il sistema bancario deve fare una riflessione e capire se le ha finanziate nel modo giusto negli anni passati, se deve continuare a finanziarli, se non bisogna fare dei piani di ristrutturazione insieme e che tipo di accompagnamento va fatto per tutte queste aziende, che non sono la categoria A di cui parlavo prima, che non sono la categoria B di quelle che stanno per partire, ma sono delle aziende che per mille motivi o hanno un mercato solamente domestico o hanno avuto a che fare solamente con clienti chiamiamoli statali o della pubblica amministrazione e che per mille motivi si sono sedute. Questo è dove probabilmente l'attenzione dovrà essere posta nei prossimi, direi, 18 mesi, perché il tasso di sofferenze bancarie e quindi il tasso di aziende che non ridanno i danari a cui sono stati prestati è in assoluta crescita e stiamo a un livello francamente abbastanza di guardia anche per i bilanci delle banche. Torniamo però alle aziende, diciamo, quelle un pochettino più pimpanti, le 5.000. Quale sarà la sfida di queste aziende che adesso hanno questo fatturato di 100, 200, 300 milioni di fatturato che stanno salendo? Sarà la sfida di diventare delle vere multinazionali. Noi come Italia abbiamo troppe poche grandi multinazionali, abbiamo troppe poche Finmeccanica, Eni, Enel e Ferrovie, Fiat e Luxottica e Telecom, ma non sono tante. Quando uno va a vedere queste multinazionali che poi portano investimenti, portano ricerche e sviluppo, portano assunzioni, portano, diciamo, quel discorso di politica industriale alta a cui faceva riferimento il dottor Moretti. Queste aziende, noi ne abbiamo troppe poche. Dobbiamo far crescere le aziende al momento che si stanno sviluppando e farle diventare delle grandissime multinazionali, mantenendo sicuramente un coteo italiano, mantenendo la base in Italia. Sarebbe drammatico se delocalizzassero, però sicuramente dobbiamo fare in modo che crescano, cominciano ad esserci delle bellissime realtà di nuove mini multinazionali molto pimpanti. Tutta la filiera della nuova moda e quindi le nuove aziende che si sono quotate, che sia la Cucinelli, che sia la Moncler, che sia la Ferragamo, sono tutte aziende che sono, diciamo, di secondo ondata rispetto alle primissime, le Armani, le Valentino, ma sono delle aziende che stanno crescendo benissimo e questa sfida della multinazionalità direi che l'hanno abbastanza vinta. Ci sono anche altre aziende che sono in un ambito europeo, direi, molto molto competitive. La Chicco Arzana, la Calzedonia, Trevi Costruzioni, la stessa Campari, sono già partite. Ecco, noi abbiamo bisogno di una cinquantina in più di questo tipo di aziende, di queste aziende che cominciano ad avere una capitalizzazione, un valore di un miliardo e mezzo, due, tre miliardi e che si possano preparare a un mercato che si sta consolidando e dove l'Italia possa veramente agire da primario, operatore. Grazie. Grazie, Flavio Valeri. Io vorrei porre ancora, per il tempo che abbiamo, una breve domanda a ognuno dei partecipanti. Facciamo lo stesso round di prima. managerialità, formazione, che cosa deve fare l'Italia per rendere le persone più capaci e più in grado di guidare e far crescere le nostre imprese? Primo, è una domanda difficile. Adesso Valeri diceva che c'è un problema in Italia e che manca la grande impresa, la grande impresa globale e internazionalizzata. È vero. Questi sono i motori. Io, l'anno scorso, se ricordo bene qui, teorizzavo, ci sono due motori di sviluppo in ogni paese, le grandi imprese e le grandi città, i grandi sistemi urbani. Se non si hanno queste, si possono avere delle ottime eccellenze, ma non sono in grado di affrontare la globalità, trascinandosi il paese. Uno dei grandi problemi, io prima ho citato esperienze positive nell'ambito tecnico, ingegneri, tecnici, degli studi tecnici superiori, uno dei grandi problemi che abbiamo in Italia è la mancanza di managers. Grandi managers. Questi non si inventano. Quando una grande impresa deve cercare un capo, in Italia è un dramma. L'avete visto negli ultimi sette, otto anni, dieci anni. Bene, anche qui bisogna avere il coraggio di poter investire. Se si occorre fare un ciclo in cui il problema delle dimensioni è un problema di qualità, perché vuol dire aggredire delle fasce di mercato a prestazioni più elevate, dove le dimensioni critiche, per capitale, per capacità di poter fare ricerca e sviluppo, sono di alte, di grandezza, occorre che anche questo aspetto venga affrontato da parte di managers. Poi si troveranno soluzioni, per carità. Guardate, LuxOctica, ne abbiamo parlato sui giornali, ne hanno parlato i giornali per quanti giorni, perché c'è un amministratore legato che non va più d'accordo con il suo padrone. Beh, dovrebbe essere una cosa normale, in un paese normale. anzi, dovrebbe essere un fatto positivo, perché c'è un'opportunità di ricambio. Lui fa il padrone, io sono i managers. Il manager. Se un manager deve essere cambiato, può essere un'opportunità, più che vista come elemento di crisi. Ma se è visto come elemento di crisi, vuol dire che ce n'è pochi. E allora bisogna che anche qui il paese smetta di criminalizzare le persone, nella logica, lui parlava di invidia in altro modo. Ma badate che, se non vi sono poi queste classi, il paese non c'è, semplicemente. Vanno benissimo tutte le cose del dovere poi coinvolgere per condividere trasformazioni da guerra, come quelle che diceva prima Raffaele. Però servono anche persone in grado di avere creatività, visione, capacità e forza di poter condurre. Senza un paese è allo sbando. Ora noi intravediamo in questo periodo di grande ricambio di classe dirigente, perché di questo si sta cambiando, si sta parlando, l'opportunità, ma bisogna che vi sia anche una grande volontà, di creare le condizioni perché nel mercato globale, negli strati ad alta innovazione e ad alta capitalizzazione, vi sia soprattutto la capacità di proporre anche quel capitale che è il più raro di altissima qualità. Il capitale dei managers. Ora qui, non è che possiamo inventarsi anche noi delle scuole, perché se guardate nel rank dei gradatori internazionali, i valori delle nostre luoghi di formazione, siamo ai centocinquantesimi, centottantesimi. Non esistiamo. E qui bisogna investire. Come investire in un'altra tecnologia, come investire in una grande ricerca scientifica, come investire in un grande problema sanitario-medico. Anche questo è un grande problema sul quale occorre fare. Poi su quello si innalza da quel punto di vista la qualità di tutta l'education. Il problema più grande di un'impresa è trovare le risorse di qualità. Perché le risorse finanziarie sul mercato ce ne sono tante. Tante disponibili in competizione tra di loro, basta scegliere. Poi certo bisogna avere anche un merito di credito per non morire immediatamente. Ma il problema grande è trovare le risorse umane da collocare ai posti giusti. Io sto facendo adesso un processo di trasformazione radicale in fin meccanica. Da un arcipelago di società, tra di loro disarticolate, a una divisione, divisionalizzazione. Un'impresa industriale unica fondata su divisioni. Perché? Per mettere in sinergia tutto quello che di positivo e di buono c'è. Qual è il mio problema più grande? Certo, sapere quale sarà il piano industriale lo faremo. Ma alla fine la ricerca di quelle dieci persone che incarneranno la trasformazione. E qui lascio il messaggio agli altri per capire come si fa. Grazie. Abbiamo parlato di managerialità. Per quanto riguarda tante imprese italiane è proprio la sfida di trovare anche un'imprenditorialità lungimirante, capace, capace di prendere decisioni strategiche così come è stato in Cucinelli. Visto che resta particolarmente a cuore la persona, che cosa caratterizza per sua esperienza un imprenditore, una persona intraprendente, non essere per forza un imprenditore, ma se lo è, che cosa lo caratterizza? Sì, intanto io sostengo molto che l'Italia è un'Italia fatta da industriali, chiaramente meno finanzieri. E noi industriali per noi l'impresa è come un piccolo figlioletto, no? Cerchiamo di, vorremmo farlo vivere per l'eternità, che io trovo una cosa bellissima. Questo sono abbastanza convinto. Il concetto di fondo è di immaginare se dell'impresa siamo proprietari e maggiori azionisti o custodi e maggiori azionisti. Quindi è chiaro che se ci sentiamo custodi abbiamo meno paura di perdere, se ci sentiamo custodi azionisti immaginiamo l'impresa che possa vivere qualche secolo. Perché il progetto è sempre quello. Noi siamo quotati in borsa e ci siamo quotati due anni fa. Ma devo dire che immaginiamo la trimestrale cambiando un all'altro ma immaginiamo tre anni ma 30 anni e anche 300 anni. Questo è il problema. Il problema di fondo è secondo me noi non abbiamo troppa necessità di avere manager sono imprese diverse le nostre sono di medio taglio noi dobbiamo avere il coraggio di immaginare certi mercati come se fossero mercati domestici. Non c'è nessuna differenza fra l'Europa e l'Italia e l'America capite dove è la differenza? È questo. Noi dobbiamo incentivare gli esseri umani ad essere creativi e non aver paura e non metterci in discussione. Vedete io ho 60 anni e abbiamo fatto delle regole che oltre i 60 anni nessun manager nessuno può avere cioè a 60 anni deve diventare consigliere senior e non può essere più CFO piuttosto che CEO chiaro non vale per me perché ho 60 anni se no smettiamo però noi abbiamo bisogno di essere contemporanei abbiamo bisogno di essere moderni dobbiamo tornare ad avere il coraggio di ascoltare perché guardate che c'è un grande poeta che dice abbiamo due orecchie e una bocca cerchiamo di usarle in percentuale non ascoltiamo più allora io non ho nessuna paura di quest'Italia e se dovessi fare un appello ai giovani non abbiate paura abbiamo una marea di persone per bene siamo seri che timori dobbiamo avere quindi ragazzi dobbiamo fare solo una cosa avere rispetto per le leggi e per le regole dobbiamo tornare ad avere rispetto per le persone altrui però io non ho paura di niente guardate grazie bene grazie Raffaele Bonanni come la vedi io io volevo chiedere una cosa ne abbiamo parlato diverse diverse volte in questo momento le associazioni i sindacati che compituano nello specifico per dare una mossa al paese cioè i famosi corpi intermedi di cui i sindacati sono una espressione è importante ma lo dico con devo recuperare il tempo di prima lo dico con due parole devono fare una sola cosa perché sono la nervatura del paese oltre questa rappresentanza nel paese non c'è altro probabilmente esiste ancora un'impalcatura di rappresentanza politica ma quella sociale è ancora molto solida una sola cosa devono fare non unirsi ai populisti ma indicare strade anche difficili ma salutari per il paese sfidare 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 le soluzioni coraggiose scusami allora è il corporativismo che è molto diffuso come lo affrontiamo dove ci sono realtà organizzate il corporativismo ha difficoltà a vivere parliamoci chiaro può essere qui e lì presente come espressione però non hanno la possibilità di esprimersi il corporativismo si si esprime quando non ci sono corpi intermedi organizzati anzi si esprimono i corporativi i violenti i populisti e così via io ritengo che alcuni stanno giocando col fuoco oggi d'Italia agognano per risponderti agognano una società dove la rappresentanza politica si riduca a zero e ci sono quasi riusciti e anche le rappresentanze sociali si riducono a zero a quel punto il gioco è fatto comandano solo loro ma per comandare solo loro il prezzo per le comunità è altissimo perché a quel punto si rompono gli argini e tutti i corporativismi tutti i qualunquismi tutti i ribellismi si faranno sentire ogni giorno non esisterà nessun cemento per reggere appunto un paese costoro le rappresentanze devono essere più coraggiose devono essere più moderne devono essere più lungi tutto quello che volete io dico devono essere più coraggiose ma senza di queste il paese non va in nessun posto parlo anche della realtà appunto associativa che ci ospita oggi sono sospette tutte queste pelose valutazioni che si danno la verità che per molte realtà danno fastidio le realtà organizzate e noi sappiamo quali sono i poteri che odiano le realtà organizzate quindi quello che devono fare le realtà organizzate è darsi ancora più coraggio ancora più criterio nello stare insieme Flavio Valeri un tema che è tornato anche nel tuo intervento è la dimensione delle imprese le piccole medie imprese di cui è fatto il sistema italiano come devono muoversi devono fare rete devono rimanere singoli e fare l'eccellenza da solo qual è il futuro di questo sistema imprenditoriale tipicamente italiana per salvare anche la creatività specifica che lo caratterizza che si facciamo e tutte le medie piccole imprese delle grandi imprese forse qualcosa di virtuoso perdono sicuramente le aziende dovranno crescere e assumere una dimensione internazionale ma sarà solamente basato sul talento che riescono ad attrarre nei prossimi 10-15 anni ci sarà una guerra del talento per attrarre i migliori studenti le migliori professionalità che siano artigianali che siano manageriali che siano professionali immensa noi alla Deutsche Bank abbiamo una regola nella quale io stesso devo dedicare due settimane l'anno ad assumere i migliori talenti che ci sono sul mercato e fa parte dei miei obiettivi assumere almeno 30 persone eccezionali perché se non vengono alla Deutsche Bank vanno a un'altra banca o vanno in un'altra azienda e questa questione di assumere l'eccellenza sempre e comunque senza ma e senza se deve entrare nel nostro DNA diceva giustamente il dottor Moretti avere delle università che non sono nelle prime cento va male è un disservizio ai nostri studenti e lo stesso avere studenti che non finiscono in tre o cinque anni dipende dal corso di laurea va malissimo avere degli studenti che non parlano due o tre lingue nel 2014 va malissimo perché la competizione è già partita e ci sarà assolutamente una polarizzazione verso la meritocrazia e tutte le aziende si contenderanno quel pool di talenti ognuno nella sua specificità che porteranno le aziende che avranno la fortuna e la bravura di assumerli a una prossima generazione e a un prossimo livello di sviluppo questo concetto puramente meritocratico lo dobbiamo accettare sia esso per un'azienda piccola un'azienda media un'azienda grande ed è la base della competizione nei prossimi 15 anni bene grazie grazie a tutti voi che avete ascoltato io penso che tante indicazioni tanti prospettivi sono state date tocca a ognuno di noi nel suo ambiente questo non è un modo per dire è una cosa molto seria tocca a ognuno di noi di assumersi la propria responsabilità nell'ambiente in cui vive paragonandosi a seconda della sua situazione con quello che ascolta qua o in altri incontri grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti